Una fiera che si rinnova ogni anno dal 1613 è quella di San Gennaro Vesuviano e si terrà dal 12 al 20 settembre. Sarà un'edizione ricca di sorprese a partire da Pietro Parisi, il cuoco contadino originario di San Gennaro Vesuviano, volto noto della televisione. Ci saranno poi l'attore Patrizio Rispo, l'ambasciatore Unicef Mario Porfito e Ivan e Cristiano direttamente da Made in Sud. Tanti appuntamenti di eccellenza in programma per la prossima edizione della fiera. Tra cui il Salone Equestre che può contare sulla partnership della Fiera di Verona, ma anche l'area dedicata all'enogastronomia con l'apertura internazionale attraverso un gemellaggio con la città di New York in occasione della festa di San Gennaro. Di cui ci parla il sindaco di San Gennaro Vesuviano Antonio Russo. Quest'anno cercheremo di andare oltre i nostri confini nazionali, grazie anche alla partecipazione di testimonials di particolare importanza televisivi, attori televisivi di prestigio, che cercheranno di veicolare questa nostra fiera sancenarese oltre i confini della nazione, ma probabilmente anche oltro oceano. Perché è in previsione questo gemellaggio con la città di New York, grazie ad un rapporto di partenariato che abbiamo iniziato con il sindaco di New York, col quale avremo un collegamento probabilmente in teleconferenza, che proietterà questa fiera di San Gennaro Vesuviano oltre i confini della nostra nazione. Ogni edizione della fiera vesuviana richiama centinaia di migliaia di visitatori. Lo scorso anno oltre 200.000 presenze. Fitto anche il cartellone degli spettacoli e dei convegni tematici, tra cui la serata Unicef. Ascoltiamo l'ambasciatore Unicef Mario Porfito e Mimo Pesce, presidente provinciale Unicef. C'è interesse a veicolare l'immagine di questa fiera d'orgoglio di San Gennaro Vesuviano ed ecco che l'Unicef si presta a raccogliere dei fondi. Ci sarà una cena cucinata chiaramente dallo chef Pietro Parisi, parliamo di 5 stelle, parliamo di una cena veramente di pregio e il ricavato di questa cena, che sarà offerta a un prezzo popolare, andrà tutto interamente all'Unicef. Napoli è sempre stata sensibile al solidale e molto vicina all'Unicef, in tutti i sensi e in tutti i modi. E anche Pietro Parisi, nostro nuovo testimonial per la grande moda degli chef, ha dimostrato di avere una sensibilità incredibile organizzando questo evento. Sarà il primo di una lunga serie perché abbiamo un sacco di chef pronti a cimentarsi per Unicef. Grazie.